...e lì sta in testa, la manca per i metri che derivano dall'arresto del trattello degli altri 11 atleti, 4 e 5 metri dal termine, eccoci, è lanciato lo spinto, dovrebbe passare la giunta di Mimbali, è la volta di Mimbali, è la volta di Mimbali, a decidere l'edito, per gran prele, cittadino di Capagliore, Sagan, primo e Sagan, unici, notte in fili, vittoria, perché c'è Sagan, unici e notte in fili, ...e l'ordine da Mimbali, la media e l'ultimo giro, 45 per il 180, la media generale, 42 per il 130, la volata del gruppo, una vinta, la risuolo, l'applauso per tutti gli obiettivi che portano a termine, ...e il gran prele, cittadino di Capagliore, il gran prele, cittadino di Capagliore, ...e l'ultimo giro, la manca per i metri che derivano dall'arresto del trattello degli altri 11 atleti, 400 metri dal termine, eccoci, è lanciato lo spinto, dovrebbe passare la giunta di Mimbali, ...e la volta di Mimbali, a decidere l'edito, per gran prele, cittadino di Capagliore, Sagan, primo e Sagan, unici, notte in fili, vittoria, perché c'è Sagan? Sagan!